Io vorrei che da soli vi facesse un applauso perché state iniziando un po' di atto. Emozionati? No. Sì. Terrorizzati? Sì. Allora, vi accogliamo stamattina con la nostra mascotte. Adesso si chiama semplicemente Nao. Al termine di questo anno scolastico, grazie anche al vostro contributo, avrà un nome proprio. Quindi ve lo presentiamo stamattina. Eccolo lì, è molto simpatico. E' stato programmato dai vostri compagni per darvi un saluto. Poi dovrete ascoltare anche un po' altri saluti, l'accoglienza di tutti noi. Quindi genitori, non ve ne andate, state con noi. E diciamoci insieme buon anno scolastico. Grazie. 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 Grazie a tutti. Salve, io sono un robot umanoide e posso essere programmato per interfacciarmi in varie situazioni. Prego, disponetevi attorno a me. Siete pronti? Sì. Bene, benvenuti nella scuola dei saperi, delle innovazioni. Dell'intercultura e della creatività. Mettiamo in campo laboratori, biblioteche, palestre, risorse didattiche ed amministrative in grado di soddisfare la vostra sete di conoscenza e di espressione. Questo e molto altro è il liceo Alfonso Gatto. Dietro di me c'è il team di ragazzi che mi ha programmato. Mi hanno insegnato molte cose così che io possa rendermi utile nella società moderna. Volete che mi mostri qualcosa? Sì. Bene, cosa volete che vi mostri? Mi hanno insegnato molte cose dal ballare agli esercizi fisici fisici. Vale, ma. Ok. Oppa il Gangnam Style! Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Volete che vi mostri anche qualche esercizio fisico? Sì Ottimo fare esercizio fa sempre bene Che emozione mi stanno riprendendo Che emozione Nao parlaci un po' meglio di te Certamente Ovviamente non so fare solo questo Prima ho detto che posso interfacciarmi in tutte o quasi tutte le situazioni Vi spiego come Io sono dotato di sensori che mi permettono di muovermi in liberata Nell'ambiente che mi circonda Di riconoscere volti e di ascoltare e comunicare con voi Io con il mondo di internet Buongiorno dottoressa Bassallo Grazie per avermi dato l'occasione di essere qui e di diventare la mascotte della scuola A questo punto mi manca solo un nuovo nome Quindi vorrei che sceglieste voi ragazzi il mio nome Andate a seguirmi sulla mia pagina Instagram Io sono Nao Dove potete votare a un sondaggio per sceglierlo E per rendermi più famoso Sognavo di essere un fashion blogger un giorno Grazie per avermi ascoltato Vi auguro una buona giornata e un buon anno scolastico Adesso vi lascio liberi di andare nelle vostre classi E come disse il sommo poeta Lasciate ogni speranza ovviché Grazie a te Grazie a te Grazie a te